un diagramma di flusso questa guida sarà un diagramma di flusso per chi non sapesse cos'è un diagramma di flusso vi invito ad andare su wikipedia per capire perché sto dicendo diagramma di flusso ragazzi ben ritrovati in questo nuovo video io sono fabrizio e oggi andiamo a vedere come fare per installare un server dedicato su race room siete stati davvero in tanti a chiedermi questa guida e devo dire la verità che sono rimasto un po perplesso perché voglio dire che la gestione del server di race room è molto semplice in realtà più di quanto non si possa pensare però quando mi sono messo a creare questo tutorial mi sono reso conto che ci sono dei passaggi che non sono assolutamente scontati ma non per la configurazione del server che sarà rapidissima ma bensì per arrivare ad ottenere il tool che vi permette di avere appunto il server dedicato il tool per il server dedicato perché ci sono più più diciamo più possibilità allora normalmente e dico normalmente quindi di norma quando installate il gioco race room sulla piattaforma steam vi ritrovate se andate qui in alto a sinistra se selezionate strumenti la possibilità normalmente vi ritrovate con il tool già bello che installato race room dedicato server d'accordo quindi se è il caso basta fare avvia e poi si apre diciamo il browser con la possibilità di configurare cinque instanze di server proprio per race room ma in realtà non è così sempre infatti alcune volte mi è stato segnalato che race room cesti non installa automaticamente questi tool e bisogna andare a andarli a reperire allora prima di continuare iscrivetevi al canale attivate la campanellina per favore ragazzi è importante facciamo vivere questo canale e sulla fiducia lasciatemi un like ragazzi perché veramente me lo merito stavolta allora quindi stavo dicendo e c'è se non ci ritroviamo con questo race room dedicate server c'è un modo di poterlo reperire su steam però io guardato dappertutto ragazzi ho chiesto a tutti una volta si poteva fare non mi ricordo da dove adesso non lo trovo più quindi se c'è qualche anima pia che sa come si fa dire fabrizio vai su qui qua qua e qua e là scrivete nei commenti nei commenti così si evitano un sacco di passaggi però se nessuno lo sa o nessuno lo scrive vi spiego come ottenere questo tool che vi serve per far configurare il vostro server dedicato allora in ogni caso vi servirà l'ultimo tool perché ci sono anche delle possibilità in cui perché questa guida vale ragazzi sia per chi vuole farlo in locale e sia per chi vuole affittare un server dedicato in remoto d'accordo quindi in locale normalmente basta questo dedicated server e quindi di conseguenza se si riesce a riscaricare la steam e invece per quanto riguarda il server in remoto lo vediamo adesso ma nel caso in cui non abbiate questo server dedicato installato e che nessuno abbia scritto il commento ecco perché diagramma di flusso allora la condizione ci porta a usare e a sfruttare un bellissimo sito che si chiama steam db.info dove sono raggruppate tutte le app di steam e non solo però non è l'argomento principe di parlare di questo sito e e in cui praticamente ricercando race room dedicated server avete la possibilità di installarlo con questa bella iconcina in alta destra che si dice install d'accordo vi fa fare il controllo di sicurezza per collegarvi al vostro account steam e come vedete io sono collegato perché c'è l'iconcina steam drivers però se clicco install non funziona niente ho provato su un altro browser non funziona il pop up sono tutti attivati per questo sito eccetera eccetera non funziona ma quindi come posso fare sono disperato io voglio giocare con i miei amici allora c'è un altro modo in questo sarebbe il più facile più rapido però c'è un altro modo basta andare su un sito che vi dà la possibilità di scaricare un tool che si chiama steam cmd steam command ovviamente vi metterò tutto in descrizione non vi preoccupate come di consueto e vi fa scaricare un tool che si chiama appunto come dicevo steam cmd eccolo qua basta estrarlo su una cartella che la sua normalmente è steam command e molto importante seguite questo passaggio soprattutto quelli che installano o che vogliono installare questo tool su un server dedicato dove non c'è bisogno di avviarlo con steam d'accordo basta questo tool qui quindi non c'è bisogno di collegare il vostro account sul server dedicato scaricare steam cioè no perché altrimenti dovete avere due account questo tool vi permette proprio in anonimo di poter creare un tool ok un server dedicato quindi a questo punto questo qui me lo taglio e lo vado a mettere su una un disco d'accordo un disco ben specifico e nella cartella principale perché poi dovete manipolare diciamo l'invito dei comandi del dos e se non siete pratici andare da una cartella all'altra diventa un po più complesso rispetto al doppio clic che facciamo sulle cartelle allora ragazzi si incolla io lo incollo qui ovviamente mi dirà vuoi sostituire dico no perché ce l'ho già e perché ho già tutta l'installazione e vi aprirà vi creerà una cartella con solo questo questo file qua d'accordo io c'ho tutto vabbè quello non importa con questo qua e a questo punto che cosa bisogna fare bisogna fare cmd d'accordo e normalmente vi mette nel disco principale sotto utilizzatore il vostro nome quindi se avete scelto c basterà fare cd slash e siete su c nella vostra cartella principale se è su un altro disco da qualsiasi posizione in cui siete basta mettere io nel caso mia d lo vedete qui in alta a sinistra d basta mettere di due punti e mi mette nella cartella principale la radice principale del del disco a questo punto devo entrare dentro dove ho appena scaricato steam cmd quindi devo fare cd che vuol dire change directory e devo scrivere esattamente come scritta la directory quindi steam cmd ok steam command a questo punto posso anche guardare cosa c'è dentro faccio dire oppe vedo tutto quello che c'è qua dentro quello che c'è qua c'è qua ok va beh non è il nostro caso noi torniamo indietro non ci interessa faccio un bel cls per fare un clear mi piace perdere tempo e a questo punto a questo punto bisogna eseguire questa stringa qua che vi ho lasciato vi lascio in descrizione io non la eseguo ragazzi perché non fa nient'altro che scaricare e installarvi quello che avete appena visto quindi cosa cosa succede steam command così vi spiego che cosa vuol dire questa stringa steam command blogati in modo anonimo forzami l'installazione sulla cartella che ho deciso rre trattino dedicated file controllo e l'aggiornamento della della dell'applicazione e scarichami un'applicazione con questo id che niente altro è che il 35 40 60 che trovate qua che il restrum dedicated server d'accordo quindi questo è quello che gli stiamo chiedendo e poi quittati d'accordo quindi il quit finito vi ritrovate poi qui d'accordo vi ritroverete con tutta una sfilza di cose da load eccetera non lo faccio ragazzi vabbè facciamolo eccolo qua verifica console cioè mi connetto eccetera 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 lui fa tutto il suo download eccetera e poi alla fine basterà chiudere la finestra oppure basterà scrivere ecco qua lui ha visto che era tutto installato basta scrivere exit oppure chiudere a questo punto vi ritrovate con questo questa cartella qua quindi fate doppio clic e come per magia se lo avvio mi esce sei sicuro che vuoi avviare come amministratore sì quindi parte una console di lancio e a questo punto avete allora in realtà io perché ce l'ho già installato però vi dice appena iniziate iscrivi una frase univoca in modo tale da non confondere il tuo server con i server pubblici quindi scrivete ciao mamma ti voglio bene e poi c'è scritto crea nuovo server l'icona è così ragazzi che vi ritrovate create new server la pagina vi ritrovate così voi fate create new server e vi chiede il nome del vostro server io ho messo sim drivers non è complicato ragazzi il passaggio e a questo punto vi ritrovate qui avete online offline sim drivers d'accordo quindi il nome la password se volete che sia un server privato la lasciate vuota se volete che possa entrare chiunque qui potete mettere il messaggio che vi interessa ciao belli ciao belli benvenuti eccetera eccetera quindi quando accederete sul server troverete un messaggio ciao belli benvenuti eccetera quindi se volete lasciare le regole eccetera o un messaggio particolare a chi entra potete farlo dove di chi avete la selezione delle macchine allora questo è molto interessante perché potete selezionare per ogni singola categoria ogni macchina e assegnargli la potenza massima che ha ed eventualmente la zavorra questo è interessante se volete equilibrare una gara quando vedete che magari ce n'è uno che va veramente troppo forte anche a livello di gestione dei campionati zavorra eccetera è molto molto interessante mi ricordo che queste cose non c'erano prima su race room poi global server setting che sono i settaggi globali del server dove praticamente si decidono i tagli ad esempio una cosa molto interessante sono la strategia pit stop obbligatorio o meno una cosa molto importante è quanto quanto può essere il ping massimo di un giocatore quindi qui di default è 500 ma perché 500 che è enorme perché se per esempio un giocatore ha un ping alto tipo che non so di 300 e ce l'ha per qualche secondo se non rientra in questo se rientra in questo limite rimane dentro per qualche secondo se va oltre appena va oltre dopo qualche secondo viene buttato fuori e a volte sappiamo che può il ping può rientrare tranquillamente nei range normali quindi fate attenzione a questo tipo di selezione poi skip qualifying sta in sezione di cioè rimani sempre in pratica se non c'è nessuno dentro non andare avanti queste sono delle cose che potete che potete decidere ovviamente poi c'è la parte del degli aiuti quindi custom novice amatory get real custom c'è praticamente quello personalizzato novice principale del principiante amatori amatori get real pro e poi c'è la parte della rotazione dei circuiti che potete aggiungere e togliere quanti ne volete qui si selezionano poi la durata della pratica qualifica warm up e quanti quante gare volete per questo singolo circuito quindi se non volete una sola gara basta mettere zero su race 2 e 3 potete scegliere quando partire mattina pomeriggio sera eccetera e se partite con partenza lanciata o partenza da fermo poi la cosa molto interessante per quanto riguarda più che altro i server in remoto anche se in locale funziona lo stesso avete la possibilità di schedulare praticamente programmare l'accensione dei server quindi qui basta praticamente scegliere le vostre date e quanto si deve diciamo si deve ripetere questo tipo di programmazione dopo di che avete la possibilità di gestire anche le panelità di peso per ogni singolo pilota di bannare ogni singolo pilota potete anche dedicare una white list una lista bianca per praticamente far accedere solo le persone che volete come spettatori magari perché non volete evitare che tutti entrano come spettatori creare dei lag oppure perché c'è un campionato e volete far entrare il cronista il regista e basta ovviamente se non ne mettete tutti possono entrare come spettatori dopodiché potete selezionare il tipo di griglia d'accordo quindi da manualmente oppure fare importarla da una leaderboard che non c'è questa cosa qua non lo fa nessuno solo race room trovo che è bellissimo oppure dalla sessione precedente quindi a griglia invertita voglio che i piloti siano messi a griglia invertita sulla come appunto posizione potete selezionare e caricare un un'immagine per rendere più figo il vostro server quando si vede nel menu del multiplayer e poi c'è anche la parte è veramente molto completo la parte per gestire quelli che sono i risultati quindi si può fare in locale oppure anche in remoto automaticamente però questo bisognerebbe fare un discorso a parte e poi si può continuare a creare un'altra nuova istanza di fino a 5 server quindi ripetere 5 server se avete banda eccetera soprattutto per chi è in remoto e chi è che ne so ha un giga di banda può fare 5 server dedicati dopodiché basta fare save è importante e possiamo andare a lanciare il nostro server turn on server allora uno potrebbe dire vabbè fabbri qua è tutto finito tutto a posto eccetera eccetera no non è finito perché se siamo arrivati qua c'è una cosa che bisogna tenere in considerazione in alta a sinistra vedete che questo server che si chiama simdrivers sta sfruttando le porte 60.000 60.000 e 2 per il protocollo udp e 60.000 1 per il protocollo tcp che bisogna fare? qua diventa duro difficile allora se siete su un pc locale dovete abilitare sul vostro modem router queste porte d'accordo? allora io vi faccio vedere un esempio di come potrebbe essere d'accordo? quindi basta andare normalmente su gli indirizzi sono 192 168.1.1 di quasi tutti i modem però nel manuale di istruzioni o sotto il vostro modem c'è sempre l'indirizzo IP che si chiama gateway dove potete accedere appunto al vostro modem dopodiché bisogna andare nella parte port mapping d'accordo? che è questa qui per quanto riguarda il mio c'ho team in cui praticamente bisogna creare delle regole quindi molto semplicemente io prendo il protocollo 60.000 quindi lo vedo qua 60.000 e 60.002 quindi 60.000 60.000 metto l'IP l'indirizzo IP del mio computer quindi del server occhio perché se c'è il dchp che è acceso se riavviate questo indirizzo IP rischia di non essere più lo stesso so che sto rientrando in cose forse un po' complicate però bisogna dirle perché se non funziona poi mi scrivete ah non mi funziona non mi vedo nel server perché non lo vedo proprio per queste problematiche qua d'accordo? quindi qui bisogna dire al proprio modem guarda questa porta 60.000 per l'indirizzo IP di questo PC che è il server d'accordo? e questo in locale perché in realtà sui server dedicati non c'è questo problema mi devi aprire quindi dicevo per il protocollo UDP devi aprirlo per questo indirizzo come faccio a sapere il mio indirizzo? faccio molto semplicemente in basso a sinistra sempre cmd e iscrivo ipconfig ipconfig e poi nell'ultimo quando vedo indirizzo ipv4 il mio è il 192.168.236 quindi devo riscrivere qui 192.168.236 e poi faccio applica poi creo una nuova regola e faccio la stessa cosa in UDP per la 60.0001 e poi devo fare la stessa cosa io non lo faccio perché non mi interessa ragazzi non le voglio aprire queste porte e poi farò la stessa cosa per la 60.0001 però in TCP convalido e riavvio il modem d'accordo? riavvio il modem normalmente avete qua la possibilità da qualche parte o se no spegnete aspettate 5 secondi e riavviate non è la regola generale per quanto riguarda le porte perché ragazzi se io voglio creare un nuovo server ecco vi dico che è un po' complicato in questo senso qua e metto sim drivers drivers 2 guardate che succede aspettiamo che lo crei ve lo dico subito quando lo avviate vi cambia le porte quindi sarà magari 60.0004 60.0005 quindi dovrete aprire le porte per ogni singolo come si chiama server che potrete aprire e siccome ne potete fare 5 dovrete farlo 5 volte questo se fate su un server locale ora un'altra cosa potrebbe impedirvi la comunicazione tra voi quindi il vostro server e i client che si collegano per girare gli antivirus quindi gli antivirus bisogna dare delle eccezioni ai programmi quindi dire race room eccetera per queste porte dammi le eccezioni un'altra cosa non è finita qua ragazzi se andate sempre a barra di ricerca e scrivete firewall vi apre il firewall di windows d'accordo e qui dovete andare a creare delle nuove regole allora come si creeranno le regole regole per il traffico entrante si fa nuova regola qui si fa per la porta ma anche per programma si può fare però per la porta andate avanti mettete la tipologia di protocollo quindi TCP abbiamo detto 6002 se non sbaglio è 1 vado avanti gli do un nome tipo autorizzare la connessione per tutti i domini avanti metto un nome applico poi torno indietro che è la nuova regola 60000 e 2 UDP e via dicendo uguale ragazzi che è come avete fatto nel modem a questo punto dovreste avere tutte le porte abilitate se non funziona chiudete il server e lo riavviate d'accordo in ogni caso un riavvio va sempre fatto questo è il modo in cui si configura il server dedicato di Race Room allora sembra molto complicato perché praticamente ci sono i passaggi in cui se nel caso in cui non avete il tool allora dovete andare a scaricarlo se per caso avete un server dedicato remoto per scaricare il tool come bisogna fare che poi bisogna farlo da remoto quindi bisogna avere l'accesso alla console di Windows quindi vabbè quindi abbiamo visto tutti i passaggi necessari per poter installare il tool nel caso in cui non si è installato se Steam e come configurarlo e come aprire le porte di comunicazione UDP e TCP sul vostro modem sul vostro firewall e anche le eccezioni da creare sul vostro antivirus ovviamente non posso fare una guida specifica per i modem e per gli antivirus perché ce ne sono un miliardo di modelli e non è che sono tutti uguali però in linea generale si va sul port mapping per poter configurare i vostri modem ovviamente non vi prendete il rischio ragazzi se non sapete quello che state facendo perché poi se fate casino con la configurazione poi non sarete più collegati al mondo di internet io spero di essere stato esaustivo per quanto riguarda la richiesta della creazione del server dedicato per RaceRoom ragazzi se avete domande perplessità o non avete capito qualcosa non esitate a lasciare un commento vi prego ragazzi per chi dovesse sapere come recuperare il tool direttamente dalla piattaforma di steam non esitate a lasciare un commento cercherò di fixarlo in alto ovviamente tutto quello che ho detto è scritto per quanto riguarda stringhe da inserire e download sarà messo in descrizione ragazzi come al solito grazie per avermi seguito un abbraccio da Fabrice è finalmente tutto per questo tutorial ciao ciao